Ehi, ciao! Ehi là, come vanno le tue ricerche? E' vero che con la new one ora puoi raggiungere facilmente le altre isole, ma che ne diresti fare qualche scatto anche qui nel campo base? Sai che ci stavo pensando, che non ce l'hanno fatta più fare qua? Potresti scoprire i nuovi lati dei pokemon che ti circondano Per iniziare basta selezionare queste icone in alto a sinistra del campo base E vai! Fai una prova se ti va? Certo, come no? Guarda, mi chiedevo effettivamente se saremmo mai ritornati qui a farla Però, sai, prima andiamo avanti con le cose importanti Ad esempio, abbiamo ancora il bosco da esplorare e dobbiamo trovare il pokemon lumida dell'oceano Vabbè, iniziamo ad andare nel bosco teoricamente di mattina Visto che comunque è pieno di nebbia Eccoci qua Va che bel posto Dunque Che cosa abbiamo? Ho sentito Uh, uno shifter Ecco, vabbè Uh, fermo, fermo Ho sbagliato, scusami Volevo C'è Qualcosa lì Prendilo Preso Dai che mangia, dai che mangia Preso Il trivant però Ah, se n'è andato Non voglio Uh Vai a mangiare No È scappato Trivant di nuovo Ui Ciao Aspetta, dove, dove, dove? Dov'è? Rocce fluttano Vabbè, intanto trivanta l'abbiamo preso Lì di nuovo C'è un altro kecleon Però la roccia che fluttua Oh, aspetta Stavolta ti ho preso La roccia che fluttua Potrebbe voler dire Che è il pro Madonna mia Non si vede nulla Che è il prossimo percorso Ma che carino Un'anfesante Ciao Tieni, mangia la mela No, qui, qui, qui Magnate la mela Che carino C'è un'anfesante femmine E uno maschio Hanno fatto cose Cos'è? Chi è? È il drago Drampa Preso Chi c'è qui? C'è troppa roba che succede Ehi Gli sta dicendo di combatte contro il bambù Dai, fagliela vedere Mena la bambù Vai, vai C'è qualcos'altro C'è un vulvasaur lì Ehi Vulbo Vieni qua Oh A little boy saltellante C'è di nuovo un altro panciam Lì Proviamo a vedere Oh, non volevo colpirlo in realtà Però credo si siano Tutti rallegrati per via della musica Ma ciao Ma com'è contento? Ma proprio Che carino Ci saranno i cuccioli lì Dove? Chi è? Cos'è? Aspetta, dove? Eccolo lì Coppie di unfesten Venendo strettamente sul loro nido Ebbè certo Non sia mai che le uova vengano prese Quello è ovvio No, sta zona è tenerissima Con tutti i pochi mini piccoli Però sta nebbia non è Normale, credo A questo punto A questo punto Credo che la nebbia Non penso si diraderà Neanche con i fiori lumina Però Aspetta Ah, quello è un trivant C'è di nuovo il Cerbiatto Ehi, girati Girati di qua Un esbur Ma stiamo tornando indietro noi C'è troppa gente qui, eh C'è troppa gente Troppi rumori diversi Vediamo se fa qualcosa Beh, fatto non è che abbia Propriamente fatto qualcosa di strano Aspetta Magari si avvicinano Magari si menano Carina questa Questa mi è piaciuta Molto vicina Però stiamo già tornando indietro Noi Tutto addormentato Sembra un vecchio zio briaco Stronzo Neanche riposare si può più Certa di cazzo Scusatemi Guardali là quei due Ti ho visto, eh Questi qua scappano ogni volta che li vediamo Mi sa Secondo me da questa E infatti Guarda un po' Eh Non sono riuscito a prenderlo Però guarda un po' C'era un'altra via da quella parte E siamo di nuovo nel banco di nebbia Bello lui Ehi Non ti arrabbiare Però ti ho lanciato una mela Madonna quanta gente Ah, era pieno di mele lì infatti Se sta già mangiando mi sa Ah, si è proprio addormentato Ah no Scusa, mi pensavo dormissi Ti prego non mi menare Eccolo di nuovo il drago Ma ce ne sono due adesso Quella, aspetta un attimo Allora, prendi tutto Preso Ho sentito Allora, esatto Avevo visto qualcosa anche da quel lato Ehi Eh, scusami Non volevo svegliarti senza poterti fotografare Eccolo là di nuovo Keklon Però va bene, non ci interessa Quanti fiori lumida con queste parti Il drago Uh, di nuovo Bulbasaur Il drago mi sa tanto che Dove? No, fermo Eccolo lì Ecco di nuovo le rovine Fatto prof Siamo arrivati dall'altra parte Però anche qui c'è qualcosa Ui, magica Magica Dai, salta fuori No, peccato Chi è? Sento Dei piccoli ve... Ma, tra l'altro Quest'albero... No, beh Per un attimo mi sembrava un sudo-vudo Mmm Ciao Carina questa zona Molto confusionaria però Molto confusa Tante robe da fare E ovviamente al primo giro Non le puoi beccare tutte Anche perché Diciamo che il giro vero e proprio Si sblocca sempre Dal livello 2 Eh, come è andata Vediamo Allora, Shiftry Mi piace un sacco Questa qua che allena L'orsetto E mi piace Trivant Dei Credo che sceglierò questa Che è Ecleon Quella in cui mangia È ottima Loro che volano Credo sia La scelta migliore Oh, che carino questa Il piccolo Bambi Questa è particolare Mi piacciono tutte e due Bulbasaur Questa qua, dai Proprio perché È in primissimo piano Anche se non è proprio centrata E lui Che si fa il bagnetto Che si allena Questa qua, dai Anfeisant Quella in cui ci sono tutti e due Mi piace Le antiche rovine Vabbè, tieni E basta Allora Vediamo che punti abbiamo preso Shiftry Prima volta che lo becchiamo Non è proprio centratissima Però non è una brutta foto E infatti è Un triplo diamante Poi Trivant Non è centrata Lo so Però È bella C'è il fiore lumina Dai, è carina E infatti è un diamante Anche questa Lotad Bronzo Di sicuro Massimo argento Ma non mi faccio Nessun pensiero Infatti Che è Ecleon Dai, è carina Questa è carina Oro Almeno questa Dai Diamante addirittura Non l'avrei mai detto Espur che volano Dai, è carina Questa è carina Però non mi aspetto granché Infatti Deerling Dai, è primo piano Ci sono le zampette di Anfeisant Dietro ma non contano Immagino Ah, in realtà Vediamo Dio mio Solo perché si vedono Due pezzi di zampa 20 punti A caso Va bene Grazie Anfeisant Dai, questa è bella Questa è bella Prof Me la devi contare Almeno diamante Questa Che palle Dai, era carina Drampa Vabbè Argento Dire tantissimo Ma penso Bronzo Argento Pensavo peggio Pancham Che si allena Dai, è carina Questa è particolare Diamante Perfetto Un sacco di diamante Anche questa Questa è diamante per forza Questa è diamantata Per forza Infatti Eh, Sabok Bronzo Bronzo Non È buia Non si vede una sega Come diamante quel Vabbè Oh Questa è particolare Questa mi piace Come abbiamo fatto a prendere diamante Sabo Ma Questo Questo giro L'hanno regalato i punti Non ci credo che Allora Le antiche rovine Mi dici qualcosa di particolare No Come abbiamo fatto Sabo Che a prendere diamante Dove Come Perché Vabbè dai Fammi salire di livello Va O resta Livello 2 Visto che la ricerca procede speditamente Ho una comunicazione da farti Sì 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 Fammi salvare delle fotografie a questo giro Anche se non le abbiamo scelte Alcune mi piacevano E torniamo al campo base Indovina C'è stata una nuova esplosione di livelli di energia Mentre eri in esplorazione Dai prof Digli tutto Ebbene Andiamo subito al nocciolo Nella foresta sono stati rivelati nuovi livelli di energia senza precedenti Uh Pokemon Lumina di già Siamo senza dubbi sulle tracce di un Pokemon Lumina Inoltre posso dire con certezza che le rovine che abbiamo rinvenuto c'era qualcosa Partite pure appena siete pronti Sì signore Così Subito Senza neanche la briga di riposarci eh E allora andiamo Subito Nella foresta Nella zona Lumina Cavolo subito in fretta oggi eh Non me l'aspettavo Pokemon Lumina La foresta C'era qualche lag Eh infatti c'era qualche laghetto Cosa potrebbe essere? Dovrebbe provenire da? Eh e ti pareva che non era il laghetto Uh Milotic Figo Bello Eh E come lo scattiamo? Bello Bello lui Eh ovviamente non gli posso fare un cacchio finchè sta in acqua Dove? Cosa? Aspetta Eh ho capito Ah Mi sta indicando Mi indica Milotic ma ovviamente Che bella che è Eh esci fuori Dai Esci fuori Oh scusami Non volevo menarti Con una mela Scusami E' va andata Eccola qua Eccola eccola Porca mi Presa Bello Che bello Gli è uscito i tatuaggi Cosa strana Non era mai uscita nessuna roba del genere Ah devo colp Oddio io pensavo di averla Scusami Io non pensavo che la mela servisse davvero Non pensavo che la mela te la dovevo tirare per davvero in faccia C'è qualcos'altro? Tipo non so qualche cristallo Qualcosa Per un attimo mi sembrava degli altri pokemon lassù Eccola lì Eh ovviamente Peccato La distanza era giusta Dai che la prendiamo Presa Dai esci fuori Eccola Bella Prendila 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 Allora Presa Che palle davanti Al maledettissimo albero Ah vabbè non mi sta guardando però Sei bella bella Cavolo bello Un Milotic così maestoso Particolare Non che non lo sia Già di per sé Però così è ancora più Wow Veramente Certo Milotic non sarà Un pokemon Leggendario Misterioso O altro Però cavolo In questo momento è davvero Prendilo Poi è enorme Rispetto Che tecnica manuale Lo so Sono bravo Toad Io a differenza tua Sto facendo tutto io Non fai niente Tu Quello tra l'altro È un cristallo Ma ci arriverò Dite Vediamo se Oh È andato proprio Ma Che fa Che fa Impazzito Bella Bella Questa Ed è andato Di nuovo sotto E non sapendo la distanza Non è facile da colpire So che probabilmente Dovrei mettermi a cercare di nuovo Il Milotic Però Se mi metti lì Un cristalfiore Qualcosa servirà Milotic Dove sei? Poi molto carina Come zona Proprio Non sembri Neanche di stare Nella zona di prima Uh Ah siamo già all'uscita Oh Peccato Beh Milotic Bello è bello Eh l'abbiamo perso di vista Grazie al cacchio Prof Eh vabbè Tanto Il grosso del lavoro L'ho fatto Adesso è scegliere Una sola fotografia Su tutte Che sia Bella È una bella domanda Ce ne sono tante Che mi piacciono Vabbè Scegliamo magari Quella con più stelle Almeno Per iniziare Dunque prof C'è una miri di cose Di cui vorrei parlarti È che non lo so Dunque Milotic Eh solo due stelle Oppure una Mmm Eh È una scelta difficile Capo Sceglierei questa È al centro C'è i tatuaggi C'è l'effetto lumina Speriamo Speriamo sia un buon punteggio Onesto Non Non lo so Era purtroppo sempre di lato Forse questa è l'unica Che abbiamo proprio dritto dritto Vediamo Perfetto Diamante Alla prima Beh dai Non ci lamentiamo Vero prof E siamo saliti di livello Ma guarda un po' la casualità Non succede mai Vero Bellezza Incommensurabile Oh wow Ora che abbiamo i dati sul pokemon lumina Ho delle notizie da darti Vedrai Ti stupiranno Ma te ne parlerò quando sarei tornato Sì 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 Al laboratorio E torniamo al campo Dunque Con delle notizie sul pokemon lumina Che cosa ci dirà il prof Dobbiamo ancora trovare quello dentro la grotta acquatica Maledizione Oh nuova isola Nuovo pokemon lumina Esatto Proprio come riportato dalle cronache Come previsto ciascuna isola ne possiede uno Mi chiedo tuttavia Come sia possibile che il capitano V Che ne fosse a conoscenza Forse al tempo Non c'era bisogno di lanciare palle illuminate Per farle illuminare In effetti dalle cronache Sembra che si riuscì a incontrare Solo due pokemon lumina no? Esatto Tuttavia scrisse anche che ne esistevano quattro C'è ancora una valanga di cose che non sappiamo E per fortuna Dopotutto i misteri danno brio alla vita Beh Non a tutti i torti Allora Oh Un altro dialogo Ciao Qualche nuovo scatto interessante A proposito Avete provato a fotografare i pokemon qui nel campo base Come vi consigliavo l'altra volta Sì è stato come una ventata d'aria fresca In tal caso Per la prossima volta Vi consiglio di partire Da un punto diverso della base Vedrete Nuovi angoli Nuove prospettive In che senso Un punto diverso della base Dove ci troviamo ora ad esempio È diverso dal solito no? Il percorso cambia in base al punto di partenza Che può essere qui o davanti al laboratorio Che bello Più tardi ci provo anch'io Beh si si e l'hai già detto prima Lo farò dopo Lo farò dopo Todd Non rompe le palle Voglio solo vedere la mappa Vulcano L'abbiamo trovato Il che vuol dire che qui Non c'è niente Qui Non c'è nulla Qui Abbiamo trovato Milotic Qui abbiamo trovato Meganium Questo vuol dire che ci manca Qualcuno nel mare Manca l'ultima isola Il punto è In quale delle tre si troverà? Boh Poi ci manca Il sentiero nascosto in miniatura Che dobbiamo visitare questo Per poi probabilmente Sbloccare anche gli altri E probabilmente Anche il campo base Ah guarda un po' infatti Il campo base in modo diverso qua Il campo base è Secondo me Esiste il percorso arcobaleno In questo gioco Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Ci avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo A un prossimo episodio Ciao a tutti